Allora, ascoltami un po', ti faccio vedere due schiene nel frattempo, vuoi vedere due schiene? Ma le mostriamo senza i panni le nostre schiene, mostriamo le schiene agli italiani così cominciamo a capire, vediamo, vediamo Eh, che dite? Io non posso vedere, purtroppo non posso guardare, io le schiene non le posso guardare Ragazzi, che bell'idea che avete avuto con questa sorpresa che mi avete fatto, mi viene da piangere, come il tema della puntata, mi viene da piangere Allora, Enrico Dimmi tutto Io adesso comincio a chiedere ai nostri amici a casa se vale la pena, se è il caso di darti 250 euro per cambiare Pamela, la tua bambola confiabile Allora, io intanto voglio essere ottimista e compilo l'assegno